L'avvertenza della sanità privata rappresenta una vera e propria emergenza occupazionale e sociale, a dirlo in una nota le sigle sindacali CGL, Will FPL e Wiltux a margine dell'incontro di ieri in prefettura tra le parti datoriali, la regione, l'unità di crisi e le stesse sigle a pagarne le conseguenze lavoratori e cittadini, questi ultimi costretti ad effettuare le prestazioni sanitarie in un contesto nel quale le liste di attesa continuano ad essere lunghissime. Le strutture hanno solo due mesi di autonomia e le aziende dovranno ricorrere al licenziamento del personale se la regione è basilicata a non fare in fretta. Importante, per esempio, dare ossigeno alle strutture saldando almeno l'annualità 2022, fanno notare. A tal proposito abbiamo chiesto di utilizzare parte delle risorse rivenienti dal Ministero, ovvero 4.269.000 euro, risorse dedicate non ancora utilizzate per abbattere le liste che sono state prerogate a tutto il 2023. Queste risorse, se non venissero utilizzate, tornerebbero indietro al Governo centrale. Questi fondi possono essere utilizzati extratetto e sono immediatamente disponibili e non andrebbero ad appesantire il bilancio regionale. La regione, scrivono i sindacati, sembra aver recepito la nostra proposta e si è resa subito disponibile ad accelerare e verificare che vengono attuate nell'immediato due delibere di giunta, quella urgente per l'annualità 2022 e l'altra per il 2023 che però andrebbe condivisa con tutte le parti e merita degli approfondimenti specifici. Will FPL e Will Tux hanno chiesto inoltre che nei prossimi incontri vengano coinvolte le organizzazioni sindacali fino ad oggi escluse. Il tavolo rimarrà aperto fino alla cessazione dell'emergenza della sanità privata poiché qualora la regione basilicata non dovesse mantenere gli impegni presi la mobilitazione continuerà fino a soluzione della vertenza.